Diciamo subito che il primo tempo è stato di marca Ascolana, una supremazia cadenzata da ben tre pali, ecco forse vedete qualcosa nell'immagine, da ben tre pali, prima Anastasi, poi Moro, poi ancora Anastasi, il risorto Anastasi, il migliore in campo certamente da parte dell'Ascoli. Nel secondo tempo c'è stata diciamo una ripresa da parte della Lazio contenuta bene dall'Ascoli, poi gli Ascolani si sono buttati.